Questa mattina, una mattinata speciale, è finalmente arrivato il Papa Pompei. Un grande giorno, il Papa appena l'ho salutato, mi ha detto sindaco, mi dispiace per il lavoro che vi ho fatto fare. Ho risposto, Santo Padre, lavorerei per tutta la vita affinché la gioia che lei sta portando alla città di Pompei possa durare eternamente. E lui ritornerà, ecco l'eterno che resterà a Pompei, ritornare durante il Giubileo della Misericordia. Una sua emozione in particolare? L'emozione è stata aver avuto un messaggio di semplicità, di grande semplicità dal Santo Padre. Una persona che ti coinvolge, ti abbraccia, ti stringe e ha tanta voglia di dialogare. Una parola su tutte che il Santo Padre ha lasciato a Pompei. Che ritornerà, ritornerà perché ho visto che è molto legato alla nostra mamma celeste.